tale la tua domanda è come accettare di aver fallito perché l'accettazione è alla base giusto ristrutturerai il concetto di fallimento e a quel punto non c'è neanche più bisogno di accettarlo perché diventa parte di un processo nel senso che il fallimento è una parte integrante del successo qualsiasi sia poi il significato che noi vogliamo associare a questa parola e il fallimento inteso anche come no è alla base dell'evoluzione è alla base anche proprio della allora dell'integrazione di quel feedback di cui abbiamo bisogno per cambiare e per capire quali sia la direzione che dobbiamo intraprendere al fine di arrivare dove siamo destinati tante volte noi crediamo che il fallimento sia una battuta dal resto in realtà non è nulla di tutto ciò è solo una deviazione all'interno di quello che era il nostro percorso ma percorso secondo le nostre aspettative non il percorso per il quale eravamo destinati quindi nel momento in cui io per ipotesi e vi racconto una mia esperienza personale dovesse iniziare a pensare che non ho fallito in quello che è stato il mio progetto matrimoniale per quanto io ragazzi adesso forse qualcuno lo sa forse qualcuno non lo sa non è nulla per cui ne faccio un vanto ma neanche un mistero io sono divorziata però io non sento di aver fallito perché è chiaro che non ho intrapreso quel percorso pensando come del resto chiunque altro no all'indomani di un progetto pensando che sarebbe naufragato sono arrivata ad un punto in cui ho avuto necessità di cambiare direzione ma non lo considero un fallimento e tant'è vero che forte di questa convinzione quando io e quello che attualmente il mio ex marito andammo dinanzi ai agli avvocati eccetera perché poi si sanno che queste cose vengono anche gestite da un punto di vista civile ci guardavano e ci dicevano ma voi siete sicuri di voler divorziare perché andate così d'accordo ma questo perché perché il cuore era leggero e quando il cuore è leggero anche la relazione diventa trasparente diventa pulita e diventa meno faticosa quindi e questo poi l'ho trasferito anche nei miei figli per i quali non è stata una turbulenza o meglio è chiaro che è stato un cambiamento e tutti i cambiamenti portano comunque anche un bagaglio di stress ma non è stato un trauma ecco è questo che voglio dire poi per carità dal mio punto di vista bisognerebbe ascoltare lui loro ma per quello che posso testimoniare io da mamma e per quello che poi ho vissuto anche tramite loro a livello emozionale è stato veramente un avvicendamento progressivo sereno il che non significa che sia stato semplice però è stato fattibile e mi ha permesso di sviluppare anche a livello mio personale d'identità il mio lavoro attuale tante cose che veramente sono fiorite grazie a quelle a quel giro di boa quindi guarda spesso si parla di fallimento e lo si associa alla parola è stato un errore no ma è stato un errore quello che ha fatto e a me una volta è venuto da pensare che se consideri errore errare l'etimologia errare no girare anche cioè non significa solo sbagliare ma è proprio l'andamento di colui che continua a scoprire di continua di colui che continua ad andare avanti quindi in realtà io lo vedo e invito anche chi ci ascolta considerare il fallimento come una tappa del processo di di apprendimento di crescita di sviluppo di accrescimento a 360 gradi